Buongiorno a tutti, sono Mirko Serbini, ex informatico, riconvertito da agricoltore. Le mie priorità per il Comune di Anagni sono costruire una macchina informatica che sia capace a livello amministrativo di dare informazioni ai cittadini, di dare servizi telematici ai cittadini, e un'agricoltura sostenibile che permetta di produrre cibo a chilometro zero, privo di pesticidi, herbicidi e quanto altro. Questi sono gli obiettivi dall'amministrazione 5 Stelle. Grazie a tutti.